good morning family buenos dias famiglia siamo oggi qui riuniti per ricordare un sorteggio estamos aqui hoy para recordar un sorteo niente di che provo a dirlo per la seconda volta perché il primo video già ho sbagliato e l'ho dovuto rifare siamo oggi qui riuniti per una nintendo e shop card da 15 euro doc lo provo a por la seconda vez perché già ho fatto un intento fallido así che il sorteo se trattara di un codice per il e shop di nintendo con valore di 15 euro vi riassumiamo brevemente come funziona il sorteggio e le partecipazioni vamos a resumirò brevemente come funziona il sorteo e le partecipazioni nel link che avete ricevuto ci sono diverse opzioni ci sono un totale sei opzioni nel link che hai ricevuto hai sei opzioni in total per i nuovi utenti la miglior cosa è logicamente e suscriversi al nostro canale da questo diretto link para i nuovi utenti lo mas logico e suscribirse al canal primeramente il mio consiglio è non usare link no c'è profili non verificati profili fake o doppi profili perché non verranno sono accettati da un sistema filtro che abbiamo inserito il consiglio del doc e también mio è che non si usano né cuentas fake né cuentas no verificadas o cuentas doves perché al final doc ha implementato un filtro che va a fare che estos non siano validi bene invece per chi è già registrato la opzione di scegliere la seconda per chi è già registrato e formato della community la opzione corretta è la numero 2 poi abbiamo un premio giornaliero che condividere il nostro twitter giornalmente poi abbiamo come passi successivi seguire dr gamer su twitter e retuitare su twitter il messaggio principale che io ho fissato l'ultima opzione anche lei è giornaliera è verrà attivata solo da chi primariamente attiva 4 o 5 delle opzioni precedenti cosa vuol dire cosa vuol dire diaria vuol dire che tu tutti i giorni puoi venire su questo link e scegliere come opzione share your gateway twitter and click for a daily bonus entry il sorteggio avrà il giorno 16 di giugno giorno in cui noi festeggiiamo sei mesi di canale e sarà trasmesso sempre se possibile se mi permette la cattura immagini di schermo fare lo streaming in streaming direttamente se non verrà trasmesso in disco il sorteo acabara il 16 di giugno ricordiamo di leggere anche le regole e la politica tra virgolette di quello che questo torneo e ricordiamo assolutamente che youtube non è non è né sponsor e né niente di questo torneo di questo sorteggio chiedo scusa che è stato organizzato totalmente da noi grazie ai soldi ricevuti da donazioni e soprattutto 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 che nessuno dei vostri dati verrà trasmesso ritrattato o usato per scopi o terze persone os ricordiamo e os pediamo che leggi i termini e le condizioni che venen esplicitati e queremos tambien deixar claro che youtube non è di nulla maniera un sponsor di questo sorteggio sino che ha sido unicamente organizato per Live Gamer Family mediante le donazioni che abbiamo ricevuto qui nella community di questo torneo niente ragazzi io vi auguro buona fortuna come potete immaginare né i moderatori e né noi che siamo i fondatori della community saremo presenti o partecipi su questo torneo il tutto verrà fatto random automaticamente da un sito molto affidabile niente vi auguriamo solo tanta tanta buona fortuna ragazzi os deseiamo moltissima fortuna tambien queremmos deixar claro che ni nosotros ni los moderadores vamos a partecipare in questo sorteo e niente ragazzi un abbraccio ciao ciao bye 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 non trovo il programma per chiudere soprattutto ciao 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 ciao